Grazie Presidente, allora io vi ho scritto un po' di punti, un discorso, ma chiaramente dopo i vari interventi, come spesso accade, ho dovuto buttare e ricominciare da zero perché dopo quello che è stato detto in aula è doverosa da parte mia una spiegazione o un controllo di quello che è stato detto, in particolare da quello che è stato detto dal redatore il collega De Bertolli, anche collega commercialista e anche dall'onorevole Gusmeroli. Allora, in sintesi lui ha detto che la genesi parliamo di dati oggettivi, abbiamo ereditato una serie di cose e ha cominciato dicendo abbiamo ereditato frodi per 9 miliardi, ora cominciamo a dare i dati oggettivi che le frodi sul super bonus sono circa 450 milioni che sono pari allo 0,7% di tutti i crediti d'imposta. Tutte le altre frodi sono su altri bonus edilizi. Incominciamo a dire che è vero che ci sono stati un ereditato 24 cambiamenti nella norma e sì, Fratelli d'Italia oggettivamente non era in maggioranza all'epoca, ma le altre due componenti di questa maggioranza, Forza Italia e la Lega, sì. Quindi potevano anche loro darsi da fare a cercare di bloccare questi emendamenti come abbiamo cercato di farlo noi. Perché queste modifiche, e poi vengo alla questione, alla tanta declarata onestà intellettuale del collega Gusmeroli, tutte queste modifiche non sono state fatte perché la legge era stata scritta male, ma sono state fatte in maniera primaria perché bisognava bloccare in qualche maniera la legge senza bloccarla. E cosa c'è di più semplice per bloccare qualcosa? Creare variabilità, creare indecisione e incapacità di una certezza della norma perché poi gli operatori non riuscivano a intervenire. Sicuramente c'erano i più grossi che magari ce l'hanno fatto, i più piccoli no, i privati non capivano nulla. Quindi se io creo problemi nella certezza della norma, perché poi ho necessità di andare a guardare 3, 4, 5 vari decreti per poter andare a capire come mi devo comportare a seconda del momento storico in cui devo intervenire, poi ho problemi. È stato, a proposito di valori citati là, buttati là, i famosi 110 miliardi buttati da Giorgetti che poi sono diventati addirittura 117, ma ricordo che al massimo su Superbonus sono 75 miliardi a fine lavori e che erano 110 miliardi di debito, di costo per lo Stato, di danno, addirittura si parlava di buco di bilancio, buco di bilancio che non c'è, non c'è stato perché altrimenti avremmo approvato una legge di bilancio falsa e non mi pare che sia stato questo e l'ha certificato anche l'ufficio parlamentare del bilancio quando è venuto in audizione. È stato detto anche che ci sono stati gli aumenti di prezzi, ma gli aumenti di prezzi non sono stati dovuti al Superbonus, sono stati in tutta Europa una media di circa il 20%, dove però la Grecia credo che l'incremento più basso è intorno al 4,5%, l'Italia il secondo, il 9%, la Germania credo che fosse intorno al 22%, in tutti questi altri paesi non c'era il Superbonus, quindi anche lì abbiamo subito l'aumento di prezzi, ma l'aumento di prezzi non c'è stato per il Superbonus. E tralascio proprio, non voglio più neanche tornare sulla fesseria incredibile dei 2.000 euro a persona, a ogni cittadino, perché al massimo non potevamo parlare di 90 euro, ma quando poi parliamo di quello che va gestito e parliamo di 450 euro a cittadino e eventualmente delle spese militari che non generano invece vantaggi, è stato ereditato anche il fatto che noi ci dobbiamo confrontare con le nuove regole per la contabilità della pubblica amministrazione. Ma questo forse è un vantaggio, perché la prima eredità fondamentale di questo Governo è che grazie al Superbonus ha potuto fornire tutti quei soldi in legge di bilancio per il supporto per le crisi energetiche, perché altrimenti avrebbe dovuto fare un aumento di bilancio, perché i soldi sono rientrati grazie a quell'aumento di tassazione che c'è stato grazie al Superbonus. Quindi andiamo a dare che questa è un'eredità che è arrivata. Dopodiché si è parlato, è stato detto che c'è una marea di esodati, un blocco, ma allora bastava non fermare le banche, bastava andare incontro a quello che chiedevamo tutti un po' a questo Governo, l'avevamo chiesto anche dal Governo Draghi, e ripeto, in quel Governo c'erano anche i due terzi di questa maggioranza, almeno in termini di numero di partiti. Quindi quello che è stato detto dal relatore ha dato una fotografia, perdonatemi, ma ha dato una fotografia photoshopata, come si dice in gergo, modificata ad uso e consumo di quello che è la dichiarazione su questo decreto. Perché sì, la convergenza, questa fantasiosa convergenza che c'è stata in commissione, ma c'è stata perché oggettivamente questo è un decreto che non doveva nascere assolutamente e quindi si è cercato di fare il possibile per cercare di rimediare ai danni di questo decreto che non doveva proprio essere emanato. Diciamo proprio perché invece questo decreto nasce oggi. Nasce oggi non per salvare le aziende e i dipendenti, perché già nelle tutti i quattro si poteva intervenire e anzi si è intervenuti praticamente decretando la morte del superbonus, qua si decreta la morte della cessione dei crediti. In questo testo c'è scritto conversione in legge del decreto recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti. E dov'è che le abbiamo risolti in questo decreto? Non le abbiamo risolte, ne abbiamo sentito parlare di un qualcosa che forse arriverà. Quindi diciamo questo si interviene ora su questo per occuparsi dello spazio fiscale, ma su questo ci torno dopo. Credo che sia importante invece ricordare che questo decreto è uscito tre giorni dopo le elezioni e questa è una misura elettorale, non è un'assunzione di responsabilità, è una mancanza di coraggio nei confronti dei cittadini e delle imprese. Perché io mi chiedo dove sono quelle dichiarazioni fatte dalla Presidente Meloni il 17 settembre del 2022, pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie, sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti che si danno da fare per far crescere e migliorare l'Italia. E qua abbiamo bloccato tutto. Dove stanno le dichiarazioni dell'onorevole Gusmeroli a livello di ottobre 2021 in cui dice che la Lega in Parlamento farà tutto il possibile e l'impossibile per ripristinare lo sconto in fattura, la cessione del credito e rivedere le altre penalizzazioni. Quelle dell'onorevole Bagnai in un periodo di carenza di liquidità generalizzata e la circolazione di una moneta fiscale parallela, lui parla di moneta fiscale parallela, è uno strumento prezioso. Chi non vuole la circolazione controllata a certificata dei crediti vuole un'ondata di fallimenti e deve assumersene la responsabilità politica. Dove sono tutte queste persone che insieme a noi andavano a manifestare nelle piazze per tutelare questi suoi dati fino al 23 settembre 2025, perché fa due giorni prima. Adesso non ci sono più. Non ci sono. Adesso sono qui a cercare di tutelare un decreto che blocca la cessione dei crediti, di fatto ammazzando definitivamente il super bonus, e non risolve quella cessione dei crediti. Mi ho dimenticato di citare la mozione Mazzetti, qui la Camera, che ricalcava parte di tutte quelle cose che le opposizioni volevano e che poi è stata magicamente edulcorata ed è diventato un qualcosa veramente di inutile perché attestava delle cose di base. Quindi a testimonianza che questa maggioranza di fatto non è davvero coesa se una parte aveva risordito in quella maniera. Già dalla Gliuti Quater noi abbiamo chiesto di intervenire. E ora perché si interviene ora? E qua torna la questione. È per occuparsi dello spazio fiscale e guarda caso della situazione generata da Istat ed Eurostat. Allora, e qua dobbiamo spiegare brevemente le cose. Istat, il primo marzo, e quindi forse non è davvero casuale che questo decreto sia uscito un paio di settimane prima, il primo marzo Istat ha detto attenzione, guardate che questi crediti imposta contabilmente li dovete considerare come pagabili e non li potete considerare come abbiamo detto nel 2021 non pagabili e quindi in maniera da mettere scaglionata nel tempo. Dovete metterli tutti negli anni in cui si sono generati. Benvenga perché con questo 2020, 2021 e 2022 in cui non viveva la regola del 3% si è aumentato il deficit, è stato considerato pagabile, i crediti di Tostra sono stati considerati pagabili e quindi hanno aumentato il deficit senza nessun problema e hanno liberato tutto quello spazio fiscale che si genera adesso. Guarda caso, Istat l'ha fatto il primo di marzo, ma poi dopo, anzi qualche giorno prima aveva chiesto a Eurostat e qui c'è stata un'interrogazione che ha fatto il nostro collega Fenu, a cui c'è stata una risposta veramente assurda, grottesca forse dal Ministero, ha chiesto, caro Ministero ma tu sei a conoscenza di questa lettera di Istat? Perché Eurostat sta rispondendo dicendo alcune cose precise e cita una lettera di Istat che però non conosciamo. Allora Eurostat va in totale trasparenza, Istat no, però Istat ricordiamo che è un ente pubblico di ricerca che è comunque supervisionato da una commissione all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Va bene, gli oggetti e all'economia ma mi sembra strano che la risposta sia sì, noi non ne abbiamo conoscenza perché non è indirizzata a noi, ho capito, ma Istat è quello che va a dire se nei conti pubblici li dobbiamo contabilizzare come pagabili o non pagabili. Credo che abbia un impatto su quella che è la contabilità di questo Stato, quindi risponde che non è indirizzata a noi e praticamente dire va bene, me ne lavo le mani di dare una risposta, perché però Eurostat è stata precisa, ha detto, scusa, il MEF in questa risposta ha detto, ma Istat ha dichiarato che nel 2020-21 e nel 2022 i soldi, i crediti d'imposta devono essere considerati pagabili e si può pensare per il 2023, quindi si è letto la risposta di Eurostat, il MEF, e ha dato questa ulteriore delicitazione, ma non è assolutamente vero che Istat, in base a quello che deciderà, si potranno andare a considerare, sono i crediti del 2023, perché abbiamo qua dentro, in questa aula, è stata citata da alcune persone quanti crediti d'imposta sono ancora circolanti, che sono del 2021-2022, se questi rimangono incagliati e non possono essere incassati, non possono più essere considerati come pagabili, ma devono essere considerati non pagabili e impattare sugli anni successivi. Quindi andare a dire queste cose da parte del Ministero è, diciamo, una maniera per cercare di chiudere il problema e distogliere l'attenzione dal fatto che per loro è una manna sacrosanta il fatto di creare quello spazio fiscale. Ecco perché abbiamo questo decreto adesso, si doveva bloccare tutto, perché si doveva cristallizzare la possibilità di usufruire di questo tesoretto ereditato grazie al superbonus. Ora, ha detto, continuato il relatore, a dire che il sistema bancario ha capito e non è accettato, ma il sistema bancario dipende da questo Stato, quindi quello che viene deciso cerca di fare. E però ci ha dato un'informazione importante, interessante. Allora, il 27 marzo a Trieste il Ministro Giorgetti ha detto, leggo il virgolettato, è in corso l'elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato, alcune delle più importanti partecipate pubbliche disponibili alla compravendita dei crediti che le banche non riescono ad assorbire. Oggi il relatore ci dice, e mi sono appuntato le parole, vi sarà una piattaforma, abbiamo avuto notizie, chiedo scusa, di una piattaforma di una società privata che servirà per sbloccare i crediti. Quindi, prima sappiamo che è una cosa di pubblico, di partecipato, adesso è una società privata. Allora, domandiamo, è utilizzare gli strumenti pubblici, utilizzare CDP, utilizzare Mediocredito Centrale, non andava bene perché CDP ce l'ha la capacità fiscale di intervenire, non c'è bisogno di andare a dire e mettere in questo decreto che c'è la possibilità di comprare il BDP dal 2028, cioè, guarda caso, appena finita questa legislazione in cui, presumibilmente, e me lo auguro, questa maggioranza non sarà più al Governo. Quindi, l'Onorevole Gusevoli ha citato, credo, almeno una decina di volte le parole onestà intellettuale e poi ha ripetuto i 9 miliardi di frotti, i 19 miliardi incagliati, come a voler far capire che noi, cioè loro, ci credono in questa misura, ma, per onestà intellettuale, è stata una legge scritta male e di fretta. Allora, a parte il fatto che ricordo che questa legge è stata fatta, diciamo, con il decreto legge 34 del 2020, siamo nel 2023, e ripeto, i due terzi di questa maggioranza era presente, se era davvero scritta male, allora potevano dare una mano a intervenire, visto che comunque ricordo che storicamente in quel momento erano tutti nelle piazze a protestare, facevano post. Beh, allora è bello a parlare e a dire, ma è un po' meno bello intervenire in realtà e poi dire che oggi abbiamo presentato un disegno di legge. La legge, quindi, come ho detto già prima, è scritta male, ma non è che è scritta male una legge, quindi si crea ancora più confusione per permettere alla legge di non funzionare, cosa che è stata fatta con quelle 24 modifiche. Noi non abbiamo mai detto che deve rimanere tutto uguale, mai. La stessa normativa dall'inizio prevedeva una riduzione e già nel 2019 noi abbiamo presentato una modifica, una normativa, almeno, e l'abbiamo presentata al Senato dicendo interveniamo, il decalaggio deve intervenire prima, perché come tutte le misure che servono a far ripartire un paese è giusto che ci siano dei supporti elevati e pian piano devono decrescere. Lo sapevamo e abbiamo detto, bene, interveniamo un po' prima, ma non in maniera tale da bloccarla. Noi vogliamo tutelare delle norme, non vogliamo tutelare delle norme scritte male, ma non dobbiamo ripristinare una legge sbagliata. L'ha ripetuta tante volte, tante volte, e ha detto vogliamo evitare che ulteriori famiglie finiscano nella rete dell'incaglio. Ma quale incaglio? L'incaglio è stato generato proprio perché si è impedito e si sono ridotte le possibilità di cessione. Perché vorrei ricordare a tutti che le banche che utilizzano le famose piattaforme delle varie società private, le banche hanno zero crediti, zero frodi. Quindi quei crediti, una volta passati attraverso quel quadruplo quintuplo setaccio delle piattaforme delle banche, erano liberamente cedibili. Si potevano tranquillamente far cicolare. Le banche avrebbero potuto tranquillamente cedere a CDP, che non aveva neanche necessità di fare una piattaforma perché venivano dalle banche e le banche avrebbero avuto la capacità di poter comprare altri crediti e non far incagliare nulla. Quindi non è per la legge scritta male, ma per gli interventi fatti per voler bloccare questo sistema. E quando parla di onestà intellettuale non venga più a parlare l'onorevole Guzmero di onestà intellettuale dicendo che non ci interessa la bandierina perché in legge di bilancio emendamenti delle opposizioni sono stati accantonati e poi sono stati presentati a nome del governo. Se lo ricordiamo che mi aveva dovuto fare un macello per eliminare quegli emendamenti del governo e poi reintervenire mettendo gli emendamenti con la firma di ogni singolo capogruppo. Quindi se non interessava la bandierina potevano approvare gli emendamenti delle opposizioni. Quindi non parliamo delle bandierine. Il problema è che adesso con questo decreto non si risolvono i crediti incagliati. Parla di tenuta dei conti pubblici ma se grazie al super bonus l'indebitamento sul PIL è passato dal 155 al 145 per cento in due anni. Abbiamo ridotto il problema. Qual è? Il problema è che con questa legge di bilancio che è stata fatta che prevede un'espansione dello 0,6 per cento del PIL non si raggiungerà mai quel 10 e passa per cento di PIL in aumento nel bienio 2020-2022. Quindi di cosa parliamo? Come volete, la tenuta dei conti pubblici c'è perché altrimenti avremmo avuto problemi in legge di bilancio, avremmo avuto l'ufficio parlamentare del bilancio, ce l'avrebbe detto, l'Argenia Generale dello Stato avrebbe detto qualcosa. Non è questo il punto. Le famiglie deboli che vanno in difficoltà con questo decreto legge? Certo, vanno in difficoltà proprio con questo decreto legge, non con quello del super bonus, perché guarda caso è stato eliminato lo sconto in fattura ed è stato a mio avviso introdotto lo sconto senza fattura. Si ritornerà a quello che c'era un tempo, cioè le persone che poiché non hanno la capacità fiscale per l'utilizzo del credito d'imposta e magari devono effettuare dei lavori, a questo punto andranno avanti ad assoldare delle aziende e nero. Quindi ripartirà l'evasione che con il super bonus si è bloccata. Abbiamo avuto quell'incremento di oltre 150 mila aziende e di quasi un milione di lavoratori. Quindi siamo andati a eliminare il nero, siamo andati a creare un sistema per lo Stato. Lo dobbiamo modificare e migliorare? Sì, ma in questa maniera lo si blocca perché questo decreto, poi qualcuno dovrà spiegare come sarà possibile effettuare dei lavori su unifamiliari avendo una capacità fiscale, un reddito di 15 mila euro e quindi non portandolo solo in detrazione senza cessione. Come sarà possibile? Proprio non lo so. O come sarà possibile per quegli immobili, quei condomini che hanno soggetti che sono incapienti poter fare i lavori e i soggetti incapienti non potranno portarsi in detrazione nulla. Quindi i condomini, quelli formati da tutte le classi abbienti, lo potranno fare. Gli altri, cioè il 95%, no. Eppure l'Ufficio Parlamentare del Bilancio ha ben spiegato che grazie al Superbonus questa misura è andata a favore anche delle classi meno abbienti e quindi perché si è andato a vedere che proprio nei comuni dove il reddito medio era più basso si è avuto un incremento di utilizzo. Quindi vuol dire che quella era una misura che andava verso tutta la popolazione, non questo decreto legge, che di fatto blocca proprio a chi è incapiente. E però si dice che dobbiamo intervenire in quel senso. Io ho paura che l'onorevole Gusmeroli, quando ha detto che dobbiamo pensare di aiutare chi è la classe G, meno abbienti, non abbia letto questo decreto legge. Per cui noi, dice di riservare lo sconto in fattura a chi non può. E non è quello che è stato fatto. È tutto un domani, domani, domani. Allora, quindi cosa ha fatto il Superbonus? Non lo ripeterò tutto, dirò alcuni punti. Ha aumentato il 40% del PIL in quel biennio, in quel 10,7% e la maggior parte è grazie al Superbonus. L'ho già detto che si è ridotto. Abbiamo creato un'impresa. Ah, ecco, non avevo citato che grazie al Superbonus c'è stato, chi ha beneficiato dei lavori riceverà, e l'ha considerato nomi, ma circa 964 euro all'anno di risparmio sulla bolletta energetica. E questo mi sembra che sia un vantaggio. 1,4 milioni di tonnellate di CO2. E la cosa interessante è una riduzione di 1,1 miliardi di metri cubi di gas metano. 1,1 miliardi è molto vicino a quell'1,5 miliardi di quei famosi metri cubi di gas che dovevano entrare in disponibilità grazie alle trivelle. Un miliardo e mezzo in dieci anni, abbiamo detto. L'abbiamo fatto con il Superbonus, un miliardo e cento. A parte il fatto che sulle trivelle non entriamo, ma è una cifra del tutto inutile, visto che spendiamo oltre i 70 miliardi di metri cubi all'anno. Quindi 1,5 miliardi non è nulla, non è davvero nulla. E poi ha valutato nell'aumento del valore immobiliare di circa 7 miliardi, 7 miliardi e cento. E anche questo è un vantaggio. E considerando che si è aumentato, abbiamo detto che si va verso i meno abbienti, quindi questo Superbonus ha supportato i meno abbienti, vuol dire che abbiamo aumentato il valore immobiliare di chi ha poco per vivere. Quindi siamo andati a facilitare proprio le persone meno abbienti. Quindi abbiamo ampliato a tutti. E andando ad ammazzare il Superbonus, come si è fatto in maniera definitiva, intervenendo qua sui crediti, nella realtà andiamo in contrasto con quello che è la direttiva Casa Green. Con il Superbonus, è stato ampiamente detto dai nostri colleghi qui in quest'Aula, che senza il Superbonus ci vorranno 630 anni, ma con il Superbonus andando a intervenire proprio su quella percentuale che la stessa ANCI ha detto è importante andare a prendere per riclassificare dal punto di vista energetico, in dieci anni con quella Superbonus si riesce a intervenire. Quindi andare a intervenire a gamba tesa in questa maniera, di fatto bloccandolo, non ha senso. Non ha senso anche nei confronti dell'Unione Europea che ha detto che è importante e che addirittura lo si dovrebbe rendere strutturale. Ma poi questo decreto è andato a bloccare le pubbliche amministrazioni che stavano intervenendo per comprare e dare aiuto al sistema bancario senza alcuna motivazione. In quella maniera non è vero, come ho letto da qualche parte, che si andava a aumentare il debito pubblico, perché se il credito e l'imposta veniva comprato dalle pubbliche amministrazioni e utilizzato nell'anno non andavamo a creare nessun problema e nessun danno al debito pubblico, ma intervenivamo proprio per depotenziare questo problema che c'è di utilizzo quasi completo della capacità fiscale delle banche. Tra l'altro, a dare manforte a quello che abbiamo detto sulla questione di riutilizzo e di squassare i conti pubblici e del fatto che probabilmente questo Governo dovrà verificare anche il 2021-2022, il Direttore Generale delle Finanze Spalletta in audizione ha detto che solo 6,6 miliardi di quei crediti imposti al 31-12-2022 sono stati utilizzati in compensazione sui 58 miliardi dell'epoca. Quindi stiamo parlando di una marea di miliardi che non sono ancora stati messi in compensazione e che quindi potrebbero andare a finire nel calderone di quelli che dovrebbero essere considerati non pagabili. La cosa che ha detto il Ministro Giorgetti, il relatore, è che noi abbiamo bisogno delle piattaforme, ma perché private? C'era quella proposta di Abi che tutti i gruppi politici hanno supportato, quella dell'F24 che con l'1-2-3% poteva intervenire e permettere di risolvere oggi, anzi ieri. L'altro ieri, se vogliamo essere onesti, perché l'abbiamo presentato durante il Governo Draghi, si poteva intervenire e affievolire questa pressione, però si preferisce andare verso una piattaforma che abbiamo appreso oggi privata e non pubblica e chissà perché privata, visto che il CDP tranquillamente potrebbe intervenire e non viene consolidata, quindi non dà problemi sul debito pubblico. Quindi si criticano qui dentro le complicazioni, ma se ne introducono altre. In conclusione, Presidente, il Superbonus nasceva per spingere verso l'efficientamento energetico, per far partire il mercato dell'edilizia, e l'ho fatto, è ripartito molto bene, non abbiamo consumato un metro quadro di suolo, abbiamo eliminato tanta evasione fiscale, i ritorni immediati sono pari a circa il 40% di quello che è stato speso, perché è rientrato tutto grazie alla tassazione e ricordo da capo, grazie a quella tassazione abbiamo evitato in legge di bilancio di fare scostamenti per andare incontro alle famiglie. Ora, ricordo al governo che si ritiene che si debba spingere per lo sviluppo, è stato detto, con quella legge di bilancio 2023 non andiamo da nessuna parte, mentre con una misura di questo genere, sì, bloccare come è stato fatto senza risolvere, o addirittura pensando di farlo dopo, poi si vedrà, non sappiamo come né quando, anche perché creare, mettere su una piattaforma fiscale, una piattaforma, cosa che noi chiediamo da anni, credo dal 2019, con il collega Fero, con una sua legge, credo che lo chiediamo da tanto tempo di mettere su una piattaforma fiscale e di certificazione di questi crediti edilizi, non è stato fatto, ora lo si dice adesso, quasi come un contentino alle opposizioni, ma soprattutto al Paese che sta ascoltando a queste aziende che stanno lì, che non sanno ancora di che morte devono morire, perché a loro con questo decreto, con quei miliardi che sono in giro, non si risolve assolutamente nulla. Quindi bloccare senza risolvere è dimostrazione di una incapacità di programmazione. Però, certo, il tesoretto fiscale che si è messo, il tesoretto fiscale che si è creato, lo si sta cercando di tutelare, quindi a questo punto io mi devo da un lato augurare che il Ministero, che è questo Governo, riesca a mantenere i crediti pagabili, a mantenersi quel decreto fiscale, quindi a fare qualcosa per questi crediti incagliati, solo per questo motivo, anche se poi lo utilizzerà per una riforma fiscale su cui parleremo in seguito e che è assolutamente assurda, così come concepita, anche perché una legge delica sembra un po' ridicoso, ma lasciamo perdere in questa fase. Quindi, l'ultima cosa è che per guardare al futuro, come è stato detto prima, occorre risolvere il passato, e il passato in realtà è il presente, era il presente già nel momento in cui eravamo al Governo Draghi, era il presente quando l'abbiamo detto in tutte le salse, durante le tutti i quater, in legge di bilancio direttamente dal Ministro Giorgetti. L'abbiamo detto a tutti, è risolvere il problema dell'incaglio, e il problema dell'incaglio, arrivare oggi con una promessa di fare qualcosa in futuro con una piattaforma, non è sufficiente. Allora, lo ha detto prima anche il Senatore D'Alfonso, e l'On. D'Alfonso, che bisogna lavorare, lui dice in alcuni angoli, io dico, è importante lavorare per portare a casa questo risultato, perché interessa a tutti noi, perché chi vota il Movimento 5 Stelle, ma anche Lega o gli altri partiti, sono tutte le aziende che lavorano in questo paese, tutti i cittadini che hanno questi problemi, non è che votano un particolare partito politico. È importante risolverlo, e c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Quindi, se questo governo, una volta tanto, vorrà pensare di ascoltare le proposte di chi ha pensato a questa misura, che ha fatto del bene, al paese che non ha scassato i conti pubblici, come è stato detto, questa è una falsità che bisogna smettere di dire, noi ci siamo, ma altrimenti continuare così significa solamente buttare nel marasmo totale il paese, i privati e le aziende. Grazie.